Ciao a tutti, oggi prepareremo i pandorini veloci. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, fecola di patate, lievito per dolci, vanillina, aroma di pandoro, olio d'arachidi, farina di tipo 00, latte e uova. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova. Li facciamo montare per sei minuti a velocità 4. Aggiungiamo il latte, l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo la farina, la fecola, il lievito, l'aroma di pandoro e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per un minuto, a velocità 5. Il composto è pronto, versiamolo all'interno dello stampo per pandorini leggermente e unto, riempiendoli fino a metà. Cuocere in forno per riscaldato statico a 170 gradi per circa 30 minuti. I pandorini veloci sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dallo stampo. Pandorini veloci. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.